ciao cinefusi.it oggi vi parlo del film Aileen, un film del 2023 presentato al Sundance Film Festival e che è uscito però nelle sale italiane a maggio del 2024. Il regista è William Oldroyd che è al suo secondo lungometraggio e le protagoniste assolute di questo film sono Thomasine Mackenzie che forse ricorderete per averla vista nel film in un ruolo da co-protagonista in Jojo Rabbit e Annie Hathaway che non ha bisogno di presentazioni. Il film è tratto da un romanzo del 2015 dal titolo omonimo della scrittrice Otessa Moshfeg che ha collaborato insieme al marito anche di uno scrittore alla sceneggiatura di questo film. La storia è una storia molto interessante, una storia ambientata negli Stati Uniti negli anni 60 e parla di questa ragazza Eileen appunto, una ragazza molto giovane che ha un lavoro che non le piace, non la soddisfa, lavora in un carcere minorile come segretaria e purtroppo deve prendersi cura del padre che è un alcolizzato, ha una vicenda familiare molto difficile e proprio non solo per l'alcolismo del padre che la maltratta nonostante lei si prenda cura di lui ma anche per le sorti della madre. Non voglio svelarvi più di tanto perché poi il racconto anche di svelarsi di alcune motivazioni nell'agire dei personaggi è molto importante per la vicenda, per tutto anche il tono che ha il film che si potrebbe definire un thriller psicologico. Ad un certo punto nella vita piuttosto piatta di questa ragazza, dico piatta anche se il fatto di dover aiutare il padre e tutto ciò che combina il padre quando si ubriaca non è certo cosa da poco o qualcosa che possa rendere la vita molto equilibrata, però diciamo che ormai nella vita di questa ragazza di Aileen questi comportamenti del padre sono all'ordine del giorno e quindi lei li ha quasi incamerati come fosse una sorta di normalità. Dicevo nel suo tran tran quotidiano che è fatto appunto dell'andare al lavoro, tornare a casa, comprare da bere per il padre e poi ritirarsi in camera sua a mangiare caramelle, arriva a sconvolgere tutta questa routine la nuova psichiatra del carcere minorile che è appunto la dottoressa Rebecca che è interpretata da Annie Hathaway. Fin dall'inizio si evince subito il contrasto fra queste due donne che però invece cominciano fin da subito ad avere una sorta di sintonia, una sintonia che le rende distaccate da tutti gli altri. Annie Hathaway ovviamente è più grande, ha avuto una vita diversa da quella di Aileen, vive sicuramente in una condizione agiata e anche il fatto di aver potuto frequentare un'università prestigiosa essersi laureata, diciamo la rende molto diversa da questa ragazza che invece appunto per le sue vicende familiari non ha potuto neanche finire la scuola. Tanto Aileen è trascurata, è sciatta e non sicura di sé e veste in maniera anche abbastanza dimessa. Quanto più invece la dottoressa è vestita all'ultima moda, va al lavoro con i tacchi alti, ostenta diciamo una grande sicurezza di sé, fuma in pubblico, ricordiamoci insomma che sono gli anni 60 quindi anche il fatto di essere una donna laureata, una psichiatra che va a lavorare in un carcere minorile è comunque una scelta che pone questo personaggio in un certo modo rispetto al contesto sociale in cui in cui si trova e quindi fin da subito si nota questo contrasto molto forte ma anche questa grande sintonia fra le due donne. Inoltre Annie Hathaway ha un comportamento molto trasgressivo quasi, cioè una donna che si potrebbe definire per quei tempi un po' spregiudicata, non ha paura di uscire da sola la sera e quindi comincia a restaurare un rapporto di amicizia con Aileen e questo provoca un cambiamento anche nel comportamento della ragazza, nel suo modo di vestire. Lei è estremamente affascinata da questa donna e per tutto il film non si capisce se questo rapporto sia un rapporto di amore o solo di complicità femminile. All'interno del carcere la dottoressa Rebecca segue in particolare la storia di un ragazzo che è stato appunto incarcerato per aver ucciso il padre e quindi lei tenta di indagare le motivazioni di questo ragazzo e soprattutto di aiutarlo. Tutto questo, anche il fatto che la dottoressa abbia cambiato proprio il modo di vivere e di pensare di Aileen porterà ad una conclusione abbastanza sconcertante al fatto che la dottoressa compirà un gesto chiedendo poi l'aiuto di Aileen e quindi la metterà anche in una situazione abbastanza pericolosa e da questo ci sarà appunto un'esplosione diciamo di questo rapporto. Però non vi voglio raccontare in che cosa consiste questo gesto della dottoressa perché appunto il film è una sorta di thriller quindi abbastanza intrigante anche arrivare a a questa situazione in cui poi ci sarà appunto questa esplosione della trama per non farvi perdere la sorpresa. Dopo che si conclude questo episodio così importante così impattante verso la fine del film la conclusione del film è a mio avviso un pochino fiacca almeno io sono rimasta un po' un po' perplessa rispetto alla conclusione poi se avete avrete modo di vedere il film potrete anche voi dare il vostro giudizio magari scriverlo nei commenti a questo video. Devo dire che l'interpretazione delle due protagoniste è veramente grandiosa in particolare Annie Hathaway ma anche Thomasin Mackenzie perché entrambe hanno dei personaggi sicuramente non facili molto sfaccettati e riescono a renderli perfettamente in particolare Annie Hathaway perché il suo personaggio a volte a mio avviso quasi disturbante. La cosa che non mi è piaciuta moltissimo del film è proprio la sceneggiatura ed è particolare visto che è stata la stessa autrice del libro a cosceneggiare il film ma in questo senso l'ho trovato un po' di da scalico e forse avrei voluto che fossero approfonditi anche degli elementi proprio della psicologia dei personaggi che molto probabilmente invece nel libro si possono ritrovare comunque è un film che vale sicuramente la pena di vedere e quindi se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina facebook o instagram di cinefusi.it al video su youtube o meglio ancora iscrivetevi al canale grazie e buona serata e aspetto i vostri commenti